Voi come componente politica della città siete fortemente preoccupati per la situazione del trasporto dializzante? Sì, noi siamo venuti a conoscenza di questo ennesimo e assurdo taglio a danno dei sofferenti, perché i dializzati comunque sono persone che hanno dei problemi fisici non indifferenti sul riguardo al trasporto da parte delle ambulanze. Riteniamo che questo taglio sia un taglio veramente fuori del normale, tra l'altro attraverso il trasporto delle ambulanze loro hanno l'assistenza comunque di due operatori che sono abilitati ad essere anche soccorritori che più volte dopo la dialisi sono dovuti intervenire. Abbiamo chiesto sia noi al sindaco che l'opposizione in consiglio comunale di interessarsi per far sì che questo taglio non accata, non venga veramente preso in considerazione. Non abbiamo avuto come al solito, come in altri casi, risposte dal sindaco. Ci aspettavamo una risposta dai responsabili di area vasta su questa scelta e invece abbiamo visto l'interessamento dell'assessore Barnesi dicendo che ad oggi funziona tutto regolarmente, ci conferma attraverso il suo interessamento che fino al 30 settembre, dopo di che non si sa, infatti noi denunciavamo questo proprio perché da qui andando avanti ci sarebbe stata questa scelta. Tra l'altro rimango perplesso dell'interessamento dell'assessore Barnesi che da quello che abbiamo visto è anche in conflitto di interessi perché dal suo curriculum risulta che è dipendente di area vasta. Quindi vogliamo delle risposte dal primo cittadino e comunque vogliamo una risposta anche dai responsabili di area vasta.